Grazie a tutti. 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 What the hell? Grazie a tutti. Grazie a tutti. ok, 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 ok .. mouse è qualcosa 3..2..1.. se schiede carto sta l'argo a un bacio parata parchi un po' progetti ok aca mai filmez asa ce va a diceva? nimic? a painting ma duc eu deci stiu ce e aici cum am spus stiu ce e tank aaaa a vine tacu tac 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 cheia ghiuta prinde mai de puta ie ie uuuu uica a s-a terminat-o singur shit omg 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 cata de trecut bai il nu e bun mersi ok rotov la o parte bun deci marci toatea ma pana mea deci afara hansul marci jet uuuu charger aaaa aaaa catala style fuck yeah aaaa baaa suat cineva de mine aaaa 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 a ma jet deci a bun bun oh my god bun uuu ce tutte ma cam aici a fost episodul asta nu uita subscribe eu a fost cufe si da ne vedem data viitoare ciao